direttamente per lo stronzone magico frate non ci uscite casa frate che il tormento è tornato frate dove vai? dove vai frate? non ci uscite di casa sei il mio pensiero la mattina e ogni giorno quando faccio la cacchina mamma mia guzzi dei vecchi allora frate mettiamo subito in ordine la questione parecchia gente si sta riempendo la bocca del mio nome frate ti dico la verità io ci posso pure stare però io ti rispetto io ti rispetto per questo frate aspetta prossima storia io ti rispetto lo riesco a capire però tu 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 così mi stia mancando di rispetto a me signora signora fede mi faccia passare mi faccia passare lo sa che vado di fretta io ti rispetto però se vuoi fare il dissing prima me lo dici ci mettiamo d'accordo e poi ok comunque fatta io ci vediamo a mandare un pensiero particolare a tutte le famiglie dei carcerati e di persone che hanno comunque da fare condanne abbastanza lunghe perchè io dopo dieci mesi tutt'ora mi ritrovo comunque sballato non ci credo e sono felice perchè io vi garantisco che uscire già dopo un anno e che fai fatemi passare solo va bene